L'audio e i microfoni sono un elemento fondamentale ed imprescindibile per qualsiasi videomaker infatti costituiscono il 50% di quello che noi andiamo a vedere sullo schermo perché non è solo quello che guardiamo ma è anche e soprattutto quello che sentiamo andremo a dividere questa sezione in tanti piccoli capitoletti che racconteranno mano a mano tutte le varie parti che compongono il grande mondo dell'audio quindi preparatevi ed iniziamo come facilmente intuibile questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme quindi se vedete che vi manca qualche nozione andate a vedervelo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante torniamo alla spiegazione iniziamo col definire che cos'è un microfono e l'importanza che ha il microfono all'interno delle vostre produzioni video il microfono è quella parte che permette di catturare il suono che noi abbiamo in scena quindi la voce dei nostri attori, i rumori ambientali e tanto altro quindi per farlo si utilizzano appunto i microfoni ma ovviamente non tutti i microfoni sono uguali ci sono varie tipologie di microfono quindi i microfoni a livello proprio costruttivo si dividono in più categorie abbiamo i microfoni dinamici quindi un microfono dinamico è un trasduttore elettroacustico progettato per convertire le onde sonore acustiche nella maniera più fedele possibile quindi rispettare quello che è il suono che riceve dall'esterno quindi evitare assolutamente tutte quelle serie di vibrazioni meccaniche che potrebbero in qualche modo alterare quello che è il suono il suo funzionamento si basa sul principio dell'induzione quindi la tensione viene introdotta all'interno di questo conduttore elettrico che si muove in un campo magnetico questo conduttore può essere il diaframma del microfono quindi può essere o all'interno del microfono essere collegato al diaframma stesso come una sorta di bobina, bobina mobile da qui abbiamo quindi le due grandi tipologie di microfono che sono microfono a nastro oppure microfono a bobina mobile chiaramente sono due elementi che compongono l'interno del nostro microfono non sono degli elementi che richiedono un'attenzione particolare a meno che non si faccia audio a livello di professione quindi che voi non siete dei fonici però è utile capire le varie categorie in maniera tale da poi scegliere il microfono giusto la seconda tipologia sono i microfoni a condensatore che è la parte di microfoni che ci interessa forse di più e che approfondiremo maggiormente quindi i microfoni a condensatore sono dei dispositivi di cattura del suono noti per la loro sensibilità e qualità audio per sensibilità intendiamo la capacità di riuscire a catturare più frequenze possibili funzionano grazie appunto a un condensatore elettrico costruito da due piastre quindi immaginate che dentro al microfono quindi in questa parte ne abbiamo due piastre una fissa e una mobile quando le onde sonore colpiscono il diaframma questo vibra quindi modifica la distanza tra queste due piastre ecco che abbiamo il funzionamento del microfono questa variazione di distanza appunto cambia la capacità elettrica del condensatore all'interno producendo un segnale che poi può essere registrato e da dove deriva il nostro suono vero e proprio una caratteristica distintiva dei microfoni a condensatore è che richiedono un'alimentazione esterna per funzionare nota come phantom power solitamente a 48 volt che serve appunto a polarizzare queste due piastre che sono all'interno del condensatore e ad alimentare l'elettronica i microfoni a condensatore che sono quelli su cui ci soffermeremo di più ovviamente in questo corso perché sono relativi a noi videomaker sono appunto l'alta sensibilità perché sono molto sensibili ai suoni e catturano i dettagli più sottili che ci sono all'interno di una scena mentre invece altri tipi di microfono questi dettagli non li prenderebbero come per esempio i microfoni gelato per i concerti poi hanno un'ampia gamma di frequenze quindi rispondono bene a un'ampia gamma di sequenze rendendoli ideali per catturare i toni più bassi con più precisione ovviamente hanno anche dei punti deboli infatti la fragilità è un elemento da tenere in considerazione questo perché? perché all'interno abbiamo questo meccanismo a piastre inoltre che se prende botte, se prende urti si può rompere e si può danneggiare molto facilmente inoltre hanno una sensibilità al rumore bassa quindi vuol dire che possono catturare facilmente i rumori ambientali e i rumori indesiderati che ci sono intorno ma su questa particolare caratteristica di problematica andremo a parlare dopo quando analizzeremo i vari tipi di microfoni che ci sono ultima categoria sulla quale non ci soffermeremo sono i microfoni a nastro i microfoni a nastro sono dispositivi di cattura del suono che appunto sono capaci di riprodurre un suono caldo e un suono molto naturale quindi esattamente come è la realtà cosa che invece gli altri due microfoni che abbiamo detto prima non fanno quindi vanno leggermente a concentrarsi su alcune frequenze ben specifiche quindi questo tipo di microfono a nastro viene utilizzato molto per quanto riguarda la registrazione di strumenti musicali perché hanno questa sorta di nastro magnetico all'interno che vibra e che quindi permette tramite un meccanismo elettronico di catturare il suono e appunto vengono utilizzati per studi di registrazione ma in particolare per strumenti acustici come archi, fiati eccetera esiste questa tipologia di microfoni sappiatelo per cui se trovate il microfono a nastro non è diciamo l'ideale per quello che dovete fare ragazzi il video finisce qui vi ricordo che questo è un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sull'audio dove trattiamo tantissimi argomenti sulla presa diretta su come essere un vero fonico per i vostri video su youtube quindi se vi è mancata qualche informazione oppure ritenete di voler approfondire ancora di più alcuni argomenti qui sotto trovate il link per trovare il videocorso completo io vi ringrazio tanto ragazzi e ricordatevi iscrivetevi al canale mettete un like e fateci vedere che questi video sono interessanti e vi piacciono e ci vediamo alla prossima lezione ciao a tutti